Armati di Kalashnikov hanno tentato di assaltare un furgone blindato della NP Service utilizzando anche un escavatore per ribaltarlo ma il tentativo di rapina avvenuto a Dordona nel Foggiano è andato a vuoto. Alcuni uomini a volto coperto non hanno esitato a sparare alcuni colpi di fucile contro il portavalori quando hanno capito che le guardie giurate a bordo del mezzo non si sarebbero fermate. Nel fallito e agguato non ci sono stati feriti, i rapinatori subito dopo sono fuggiti a bordo di due auto. Le guardie giurate erano arrivate verso le 8 nei pressi dell'ufficio postale di Dordona ma quando hanno notato alcune persone ferme vicino all'ingresso si sono insospettite ed hanno proseguito la marcia innescando la reazione di fuoco del comando che pare fosse composto da 6-8 persone. Le pareti ed i vetri antiproiettili del blindato hanno resistito e così i banditi hanno fatto irruzione nell'ufficio postale costringendo il direttore ad aprire la cassaforte ancora vuota.